Musica Benvenuti all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come il nostro solito in ogni appuntamento, sono tre i temi che affrontiamo. Partiamo subito parlando della sanità, perché è arrivato il sì all'unanimità alla risoluzione sul trasporto sociale per soggetti con fragilità socio-economica. Il secondo tema, si parla di lavoro, salario minimo, approvate due mozioni in aula, il Consiglio regionale si è espresso col voto favorevole di PD e Movimento 5 Stelle. Poi si parla del Fondo Oriana Fallaci, è stato presentato nel catalogo dell'archivio fiorentino Il Cuore in Toscana. Il primo argomento, come detto, è stato approvato dall'Aula all'unanimità alla risoluzione in merito al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica, che chiede di rivedere i criteri relativi al trasporto di soggetti fragili, rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. La risoluzione è stata illustrata in aula da Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, che ha ricordato anche di aver accorto nel testo le richieste arrivate dall'opposizione. Il documento, a valle poi di un percorso importante, partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio-economiche sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario, che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini, la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario, in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici, dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo. La giunta ha avvarato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. E nell'ultima seduta all'aula si è concentrata anche su quello che è il tema di grandi attualità quello del salario minimo approvando due diverse emozioni cioè sono due testi sottoposti all'aula che hanno ricevuto il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle una è stata presentata da Irene Galletti l'altra da Ilaria Bugetti. Noi abbiamo emendato ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle gli emendamenti che il PD ha presentato e la nostra partiva dà la richiesta al governo affinché non venisse soppresso perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in Commissione parlamentare, Commissione lavoro chiedeva la soppressione dell'articolo 1 quindi di fatto quella sul salario minimo e noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati quindi Estar, parchi regionali che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al governo facessero un passo in più e il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore ma che si fa a 10 giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo come è stato identificato da IRPET ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36 che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Adesso parliamo di cultura, noi l'avevamo visto ve l'avevamo proposto in anteprima quello che era il fondo del Consiglio regionale della Toscana che aveva anche il fondo Oriana Fallaci c'è uno speciale che sicuramente potrete ritrovare anche sulle nostre pagine YouTube e sulle pagine YouTube del Consiglio regionale della Toscana il fondo Oriana Fallaci è un archivio ricchissimo tra i più importanti al mondo, già disponibile al pubblico da 2019 e adesso finalmente diventa accessibile a tutti quanti grazie a un volume Il cuore in Toscana il fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico è un libro a cura delle edizioni dell'Assemblea è stato presentato nella biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo che ha sede in piazza dell'unità italiana a Firenze dove è possibile consultare tutti i libri dell'edizione dell'Assemblea ma c'è molto di più perché c'è anche il progetto di rendere proprio il fondo Fallaci fruibile tramite Inter ma ascoltiamo Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci che Oriana Fallaci ha voluto quindi che porta il filtro anche della sua volontà di memoria di se stessa, del lavoro che ha fatto del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato ed è un archivio che racconta non solo Oriana Fallaci ma racconta una parte del Novecento attraverso le interviste, attraverso i materiali attraverso anche i materiali sonori da un certo punto di vista è la voce del Novecento naturalmente sempre con il filtro di Oriana Fallaci questo non va dimenticato un atteggiamento critico nei confronti di questo tipo di fonti è sempre molto importante soprattutto con una personalità come quella della Fallaci che aveva nello stesso momento l'intento di mettersi in una posizione empatica nei confronti delle persone che intervistava ed era capacissima di farlo ma anche in una posizione poi giudicante quindi diciamo c'è la sua interpretazione del secolo ma c'è anche il suo sguardo che è uno sguardo anche femminile nonostante lei abbia voluto che sulla tomba ci fosse scritto scrittore però è uno sguardo di una donna che è stata capace effettivamente anche in modo seduttivo quasi di far parlare le persone che aveva di fronte e l'ha fatto anche con una scrittura molto bella che lei possedeva diciamo uno strumento quindi molto che ha usato sempre credo che l'importanza di questo fondo sia il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della Fallaci dietro di Quinte quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli ai suoi straordinari libri perché dietro appunto alla grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio che naturalmente è ricco di sfaccettature ma soprattutto è ricco di umanità e questo traspare anche proprio dal suo lavoro che poi era la sua vita perché lei veramente ha dedicato la vita al lavoro parlava dei suoi libri come dei suoi figli e quindi è un lavoro molto molto è una continua lotta diciamo corpo a corpo con la parola con la scrittura nell'elaborazione delle idee quindi questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo lavoro una grandissima fatica era sempre una donna con l'elmetto anche con la scrittura lei lo diceva questo però il risultato era straordinario beh una ricchezza documentaria intanto straordinaria perché si aggiunge al lavoro già fatto da Monsignor Fisichella le donazioni di Oriana a Monsignor Fisichella e poi i fondi e le carte che ha Rizzoli per Rizzoli e Oriana scritto costantemente per una vita intera però c'è un tassello toscano a questo punto importante perché Oriana sta a Firenze come Henry Ford sta a Detroit senza Detroit non c'è la Ford senza Firenze non ci sarebbe stata questa Oriana e quindi avere il fondo in Consiglio regionale è la cosa giusta abbiamo volutamente scelto di lasciare qui a Firenze mi odieranno gli altri fondi ma più materiale rispetto alla Boston University e alla fondazione del CS Corriere della Sera perché è parso giusto così perché Firenze è la sua città e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari ci siamo affidati totalmente a questo team di archivisti straordinario per cui è rassicurante però è anche tutto molto facile la pubblicazione addirittura di un manuale per la consultazione è un ulteriore step che francamente non mi aspettavo ed è ancora di più una gioia veramente penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta fiera quindi non solo adesso c'è una fermata del tram Oriana Fallaci ma un fondo che tutti possono utilizzare per curiosità, per conoscenza è bello, sono molto contento vorrei provare a fare in modo che questi scritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico un archivio dal valore inestimabile un archivio in cui si raccontano pezzi di vita di pensiero di Oriana Fallaci c'è un messaggio forte che passa l'importanza di essere donne e uomini liberi e il valore della libertà il valore della memoria ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso aprendo le porte di questa biblioteca di questi spazi del nostro archivio in tutto il mondo oggi è una giornata bella, importante è un primo passo un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta però a questo punto con questa pubblicazione che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito è possibile per chiunque quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati amanti della scrittura di Oriana Fallaci vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale trovate tutte le indicazioni sui nostri siti ci sono due pagine dedicate una della biblioteca e una del consiglio e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza l'indirizzo è fondofallaci-consiglio.regione.toscana.it Alcune delle immagini che abbiamo visto appunto relative a audiocassette e nastri hanno proprio relative a quello speciale quando aprirono per noi proprio il fondo Oriana Fallaci per tutte le informazioni e delucidazioni ricordo il sito www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio Grazie a tutti